Non si direbbe dal tuo sguardo che abbiamo vinto? Mi sono alla chiesa No, mi sono a febbre Sì? Perché è andato troppo? In casa mia le partite così Stivo nascosto l'Ale adesso io Cosa? L'Ale è tornata da Novara che aveva 38 e mezzo di febbre Eh Adesso io Oh mamma E allora adesso cosa vuoi dire? La pizza è pizza ovunque Com'è che era l'altra cosa? Cos'era l'altra? Vuoi dire la pizza è pizza ovunque? E' un ricordo Alessi Sembrino è unico Alessi Sembrino è unico E' il mio amore? E' il mio cuore Va bene Dopo la verba Oh guarda che va su YouTube No dai Certo Ok